Allora, la pizza quanta io ne faccio? Va bene. La gratisci con i pistacchi o senza? Con i pistacchi. Grazie. Grazie. Mi piace. Mi piace uno dentro. Ah, mi piace. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora, come va? Tutto bene? Benissimo. Buongiorno signora. Buongiorno signora. Salmone e chepo per il giardino. Poi per l'apertura? Per Adriana che cercava il burro chiarificato e ti ha detto che è Adriana. E io chiedo cheso. Io ho detto che magari io cioccolato ce lo vengo a prendere. Che cheso vuoi fare? Mettiamo uno leggero. Adesso vediamo. Ah beh. I cotentini salati. E poi ci impiamo con il salame in Milano. Ah! Ah! Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.